I figli di immigrati italiani di diritto a chiederlo il capo dello Stato Giorgio Napolitano che lancia l'appello a cui hanno già risposto sindacati e partiti. Sentiamo. Negare la cittadinanza ai bambini nati in Italia da immigrati? Una follia. Parola del capo dello Stato che nella giornata di ieri ha lanciato l'appello destinato a far discutere molto. Un obiettivo è quello di fare acquisire automaticamente la cittadinanza ai bambini nati in Italia da stranieri al quale la CGL lavora da tempo. La campagna si chiama l'Italia sono anch'io e ad aderire sono stati anche numerosi movimenti, associazioni e partiti. Il tema è sicuramente dell'attualità. Noi infatti come CGL abbiamo sposato e appoggiato la campagna l'Italia sono anch'io che prevede proprio la raccolta firme per due progetti di legge che in qualche modo vadano a intervenire su quello che è anche intervenuto il Presidente della Repubblica. Noi pensiamo che una persona nata in Italia, un bambino nato in Italia che frequenta le scuole come i bambini italiani a tutti gli effetti sia anche lui italiano perché probabilmente parla italiano perfettamente e conosce il territorio come il suo coetaneo. Quindi questa è una situazione che va in qualche modo risolta perché se no si creano delle situazioni in cui un bambino si può considerare cittadino di serie B e un altro bambino cittadino di serie A. Questo non è integrazione. Sul fronte opposto il Governatore del Veneto Luca Zaglia secondo il quale a sancire l'impossibilità di concedere la cittadinanza a questi bambini sarebbe la stessa Costituzione. Certo la Lega fa campagna elettorale su questo tema perché è il suo cavallo di battaglia. Lo fa anche perché deve uscire dalla situazione che si è creata dopo il governo Berlusconi e quindi in qualche modo cerca di rifarsi una virginità ritornando ai temi del passato. Io penso invece che debbano affrontare veramente la situazione di fatto e parlare più concretamente.